salve carissimi ctutubi sono francesco e bentornati nella soffitta di camera mio benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla quest'oggi parliamo di un volume americano ovvero sia as gardiani della galassia che contiene i numeri dall 1 al 5 di as guardian of the galaxy storia scritta da boone per i disegni principalmente di lolly bella copertina che ci mostra tutto il team di protagonisti mie serie perché la serie che alla fine sono due volumi perché sono dieci capitoli americani serie che si collega a due maxi eventi che sono infiniti wars e poi con war of the realms quindi non è stato tradotto credo che in italiano sia infiniti wars e la guerra dei regni l'ho presa perché ero un pochettino interessato ai ta-in della guerra dei regni considerando che sono tutti as gardiani as gardiani della galassia era una serie della quale avevo aspettative non altissime ve lo dico fin da subito non avevo chissà quali aspirazioni a livello di storia vedendo i personaggi convolti ovvero sia angela una valchiria il distruttore trogg scurge l'esecutore e thunderstrike che non conoscevo per niente ma proprio per niente gli altri più angela un pochettino di più trogg di fama il distruttore l'esecutore ok valchiria questa sconosciuta però a meno di nome di fama o più o meno avevo aspettative di ok una storia si basata su eventi cosmici anche perché as gardiani della grassia però una trama che fosse sul trascino andante un trash divertente è una storia che ahimè si prende un pochettino troppo sul serio per un po il team che c'è coinvolto voglio dire abbiamo trogg qui alla mia sinistra vedete alcune immagini tratte dalle preview americane abbiamo trogg abbiamo scurge l'esecutore che è un personaggio che ok ha modo di essere abbastanza comico potenzialmente tendenzialmente anche thunderstrike mi pare possa essere bellamente una spalla comica valchiria con la sua duplice natura essendo un archeologa che può diventare un archeologo umana che può diventare una valchiria norrena trasformandosi a del potenziale per essere abbastanza tresciolina ma il tutto si rivolge ad un lettore che vorrebbe una trama un pochettino più seria rispetto a quelli che erano le mie aspettative anche prendendo conscio di anche prendendo coscienza di questa situazione la trama non ne ha guadagnato anzi la lettura non ne ha guadagnato questo perché proprio a livello di tie in se vogliamo di infinity wars il non aver letto la serie principale mi ha messo una condizione di dire ok per qualche motivo c'è l'antagonista di questo arco narrativo che scopriamo nel secondo capitolo che è nebula che ha fatto evidentemente qualcosa in infinity wars e è stata assemblata questa squadra con angela a capo per far fronte a questa minaccia una minaccia che comunque riguarda asgard e gli asgardiani e quindi devono essere gli asgardiani a cercare di risolvere questa situazione asgardiani che viaggiano nello spazio per affrontare un nemico spaziale non ci ho trovato nulla di davvero particolarmente interessante c'è da dire che c'è da dire che il lato galassia in sé per sé in senso stretto come sapete non mi fa impazzire quindi l'ambientazione spaziale per me è un po' un pretesto che tende a non piacermi dipende da che tipo di storia mi vuoi raccontare qui pensavo a qualcosa di un pochettino più comico qualcosa che potesse ricordare i film dei guardiani della glassia perché comunque secondo me l'imprinting poteva essere quello poteva uscire qualcosa di divertente anche considerando Thor Ragnarok il film che ha tanti difetti ma sicuramente può dimostrare che gli asgardiani quando vanno in giro per la glassia possono creare situazioni comiche divertenti qui il tutto è fin troppo serioso fin troppo serioso avete visto che c'è il distruttore sapete che è un robot è una macchina in realtà che ha bisogno di qualcuno che la comandi è anche qui abbastanza intuibile chi possa comandarlo anche se non ne capiamo benissimo le motivazioni motivazioni che molto probabilmente sono legate agli eventi di Infinity Wars c'è da dire anche che su questi personaggi non vengono fornite molte spiegazioni io ho letto la prima miniserie su Angela ho visto il suo original scene ai tempi quello dove veniva introdotta nell'universo Marvel è un personaggio che non posso dire di conoscere alla perfezione qualcosina sapevo e mi ci sono vagamente ritrovato degli altri personaggi non conosco nulla della vita editoriale e a parte Valkyrie in cui ci hanno fatto qualcosina di più giusto farci capire che è innamorato di un'altra ragazza che sinceramente messa così non mi dice un granché non mi dà informazioni, non mi dice nulla sul personaggio, sul suo background interessante il concetto per cui lei viva la stessa status quo questa Valkyria di Donald Blake slash Thor quindi potrebbe uscire neanche qualcosa di interessante però sugli altri personaggi non viene detto praticamente nulla quindi proprio a livello di un lettore totalmente a digiuno di questi personaggi compra questo albo non trova nessun tipo di spiegazione su chi siano su che cosa facciano nella vita considerando che per dirne una Scourge l'esecutore ha attualmente acquisito uno status quo particolare in virtù degli eventi del Thor di Jason Aaron accennare qualcosina di più poteva non essere male non è una strama secondo me da buttare via bisogna però approcciarsi con una conoscenza dell'universo Marvel un pochettino più approfondita di quanto non sia la mia soprattutto degli eventi un pochettino più recenti per certi personaggi ovviamente essendo a suo modo un tie-in di Infinity Wars forse avere chiari gli eventi di Infinity Wars poteva aiutare certo è che questa tipologia di trama con questa tipologia di personaggi sinceramente ci azzecca abbastanza pochino e qualcosa di più cacciarone poteva portare a situazioni divertenti in cui magari non capivi tutti i contesti ma perlomeno ti divertivi qui invece c'è un vabbè leggo vado avanti si lascia leggere arriviamo alla fine e poi ce lo dimentichiamo sul secondo volume ho più aspettative anche considerando il fatto che saranno collegati alla guerra dei regni probabilmente ci saranno qualche nemico particolare della guerra dei regni quindi non vedo l'ora di leggerlo però le aspettative sono ancora più basse rispetto a quando ho letto questo primo volume che vi ripeto non avevo chissà quali aspettative sono di leggere qualcosa di tresciolino e non mi sono trovato neanche quello e quindi pace e questo è quanto un volume che si è da sufficienza quasi sicuramente forse anche da 6,5 ma o vi piace essere dei completisti assoluti o quest'albo potete tranquillamente lasciarlo perdere è interessante però la costina trovare questa costina bianca così come i classici cartonati Marvel con tutto il disegno che ti fa un pochettino capire tutto quanto è molto carino mi piace l'edizione in realtà allora all'esterno è esteticamente carino dentro il volume è troppo tinco questi brossolati Marvel non mi piacciono sono proprio rigidi e scomodi da leggere senza considerare che a un certo punto c'è una splash page che non ritroverò mai quindi non ci provo nemmeno con praticamente la testa di uno divisa a metà incastrata nell'angolino in basso al centro praticamente te la testa non la vedi perché è totalmente assorbita dalla piega al centro del volume peccato peccato perché la scena era molto bella molto acrobatica ma lì era proprio testa e balloon si vede un balloon che dà su una testa che non esiste per via della rilegatura usata questo è quanto voglio dire per oggi qui sotto uno spazio e commenti aspetto vostre opinioni in merito avete letto questa sgardiana della galassia vi è piaciuto? non vi è piaciuto? siete d'accordo con me? non siete d'accordo con me? avevate delle aspettative per questa serie? non le avevate? insomma discutiamone tranquillamente qui sotto uno spazio e commenti mettete mi piace al video se il video vi è piaciuto condividete se volete aiutarmi a crescere a far conoscere questa tipologia di prodotti ad altri personaggi o comunque condividere il mio parere con altri che magari vogliono discutere e analizzarne con me i contenuti qui da Francesco e pop alle mie spalle dalla soffitta di camera mi hanno più soffitta e tutto e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale ciao ciao